Mila Suarez mette in imbarazzo Mirko Gancitano, non parla mai di Gwenda. La pupa e il secchione show, Mila Suarez fa una confessione shock su Mirko Gancitano, centra Gwenda Goria. Anche in questa nuova puntata della pupa e il secchione show ne sono successe di tutti i colori. E giusto poco fa Barbara D'Urso ha chiamato al centro dello studio la coppia composta da Mirko Gancitano e Mila Suarez. I quali hanno avuto un confronto con Gwenda Goria. In questa occasione proprio Mila Suarez ha messo in imbarazzo Mirko Gancitano facendo una clamorosa confessione. Di cosa si tratta? In pratica ha rivelato che in questi giorni passati alla pupa è Il secchione show Mirko Gancitano non avrebbe mai nominato la sua fidanzata Gwenda Goria, non ha mai nominato Gwenda. Nemmeno per sbaglio. Solo io ho tirato fuori il suo nome. Mila Suarez mentita da Orlando Puoti alla pupa e il secchione, non è come dici tu. Successivamente c'è stata una sollevazione popolare nel parterre della pupa e il secchione show. Difatti un po' tutti i concorrenti hanno attaccato Mila Suarez dopo questa sua clamorosa rivelazione su Mirko Gancitano. Asserendo che non... Asserendo che non... In fin... La pupa e il secchione show, Mila Suarez, qua per leggere alcune curiosità sul suo conto. Ha però subito controbattuto, chiedendo alla regia di mostrare i filmati così da provare di aver detto la verità. Barbara D'Urso sgrida Mila Suarez alla pupa e il secchione show, non sei stata carina con Mirko? Barbara D'Urso ha poi invitato Mirko Gancitano e Mila Suarez a tornare a sedersi nel parterre. E nel momento in cui si sono diretti alle poltrone, Mila Suarez ha fatto un brutto gesto nei confronti di Mirko Gancitano facendo arrabbiare Barbara D'Urso. Cos'è successo? In pratica il secchione ha cercato di prendere la mano alla pupa per accompagnarla al posto, ma ha rifiutato in malo modo questa carineria. Barbara D'Urso ha quindi sgridato Mila Suarez, non facendo mistero di credere abbia commesso una ghefa alla pupa e il secchione show. Non sei carina. Ti stava dando il braccio come un vero gentleman. È il tuo secchione. Mirko Gancitano ha quindi lanciato una frecciata a Mila Suarez, si vede che voleva qualcos'altro.